Un camion all'esterno, un laboratorio medico avanzato all'interno. Venerdì mattina, alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Pesero, presso l'ospedale di Muraglia, è stato parcheggiato il laboratorio high-tech su ruote, dotato di due postazioni artroscopiche per l'addestramento delle più recenti tecniche di ricostruzione. Un evento che ha coinvolto l'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Pesero e di Fano, insieme ai ragazzi del Liceo Scientifico di Pesero e Liceo Nolfi di Fano. Liceali che seguivano in diretta su uno schermo tutto ciò che accadeva all'interno del track, sul quale i medici e specializzanti praticavano interventi su preparati anatomici reali. Non solo teoria, pratica su manichini e osservazioni in sala operatoria, bensì procedure complesse da poter provare e riprovare in modo da acquisire manualità ed esperienza sotto l'occhio vigile di medici esperti. Un'innovazione fondamentale se pensiamo che la normativa italiana è ancora restrittiva sull'uso di cadaveri a scopi scientifici e formativi, tanto da obbligare spesso gli specializzanti italiani a lunghi viaggi all'estero. Grazie all'azienda Artrex Italia, che mette a disposizione in varie università d'Italia questo laboratorio mobile, i nuovi medici hanno l'occasione di usufruire di un percorso formativo di chirurgia estremamente all'avanguardia e realistica. Abbastanza innovativo, siamo un'azienda multinazionale e ci occupiamo di vendita di dispositivi medicali in campo in ambito ortopedico. Questa attività è un mobile lab, quindi un camion itinerante sul territorio italiano. Questa è la quarta, l'ultima tappa della settimana che ci vede qua appunto all'ospedale di Pesaro. È un camion a tutti gli effetti che è una sala operatoria, una sala operatoria itinerante per il territorio italiano con due postazioni chirurgiche in un camion ad alta specialità e dove medici, professionisti, specializzanti comunque possono replicare a tutti gli effetti quello che succede in una sala operatoria, in una giornata lavorativa in sala operatoria. Hanno la possibilità di utilizzare dei pezzi anatomici a tutti gli effetti per replicare nel miglior modo possibile quello che è l'articolazione, comunque l'anatomia del paziente. È un'attività che chiaramente, come potrete immaginare, richiede un'organizzazione abbastanza importante. Questa è la quarta tappa che facciamo in Italia, dove abbiamo toccato Università a Roma e all'Aquila e si riprogrammerà molto probabilmente per il prossimo anno un altro tour itinerante di formazione per i medici ortopedici.